Per partecipare all'udienza in Virtual Room, l'utente dovrà cliccare sul pulsante relativo alla visualizzazione del procedimento. Alla voce controversia, sarà possibile visualizzare il link predisposto per partecipare alla Virtual Room. Cliccando sul link, si aprirà una nuova finestra del browser dalla quale si dovrà richiedere l'installazione dell'app Webex di Cisco. In caso di dispositivo mobile, verrà richiesto di installare l'app corrispondente.